Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti, bentornati su Feige Network con il nostro appuntamento del giovedì con un nuovo ospite che è Denis Samodio, Ronnie 93 si occupa di One Piece e che ha scritto un saggio proprio a tema One Piece. Buonasera Denis. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Grazie per il video intanto. Grazie a te per aver partecipato che siamo sempre contenti di avere nuovi ospiti e per parlare sempre di nuovi argomenti. Comunque oggi affrontiamo One Piece, cioè nello specifico perché due settimane fa abbiamo affrontato fumetti, manga un po' in generale e parlando un po' di tutto. Mentre stasera sa che tu hai scritto comunque un saggio e recentemente era anche uscita la notizia del live, del live action di Netflix a tema One Piece per la serie. E niente, prima insomma del live parlavamo un attimo del, un po' della difficoltà di trovare il libro perché logicamente esce, è uscito Amazon, sta un po' di difficoltà, sono uscito a trovarlo e l'ho letto. Amazon è sbroccato quest'ultimo mese. Sì, proprio impallatissimo, ce l'avevo preordinato, poi sono riuscito tramite altri siti e fortuna, pure in libreria mi ha detto l'ho ordinato due mesi fa, non arriva in nessuna parte. E per fortuna ci siamo ed eccoci qua con il tuo libro. Allora, innanzitutto, perché One Piece? Hai deciso di fare proprio questo saggio a tema One Piece? Cioè, sono curioso. Beh, intanto sono cinque anni e mezzo che ne parlo su YouTube, sono otto anni che ne parlo nei forum, quindi c'è già un'esperienza culturale di storiografia mia, della mia vita, no? Che tratto One Piece in generale, quindi era, diciamo, quasi fisiologico a un certo punto puntare e fare il passettino oltre, no? Comunque sono anni che studio per diventare un critico a tema, diciamo, specificatamente manga e poi a livello collaterale anche animazione, quindi molto semplicemente dopo tutto il bagaglio che mi sono fatto con One Piece, il primo passo era parlare di One Piece, essenzialmente, quindi molto semplicemente era quello. Ok, tra tutti i manga è quello che ti ha colpito di più, perché sei, diciamo, più appassionato, no? Sì, diciamo che è il manga che attualmente, secondo me, permette di fare quello che voglio fare, cioè utilizzare l'opera come strumento per parlare di altre questioni, altre tematiche, no? Perché non è un fumetto fine a se stesso, ma tutti i messaggi e le impronte tematiche che in generale veicola sono un'ottima base per andare ad approfondire poi quella tematica di per sé, perché chiaramente, cioè, non è un lavoro enciclopedico, non sta lì a darti chissà quante nozioni, ti dà una visione dell'autore e tu poi puoi costruirci qualcosa intorno, è quello che essenzialmente voglio fare io. Ah, ok, ok, ho capito. Sì, infatti si vede pure, ho letto qualcosa, sono riuscito per fortuna leggere delle parti, cioè si vede comunque la tua passione, diciamo, la tua preparazione per quanto riguarda One Piece, ma veramente appassionato. Devo ancora finire la parte finale, alcune cose, perché ho, diciamo, guardato qua e là qualche riferimento o qualcosa. veramente, veramente complimenti per questo saggio che ci hai regalato, pure il riprendimento Oda, le batture, insomma, delle piccole chicche. Leggevo che ci sono dei, diciamo, Oda si è ispirato a qualcosa di Disney, giusto? A Walt Disney, a... Tutto il comparto visivo, diciamo, che nasce un pochino come impronta disneyana, ma in generale il comparto visivo dei manga nasce come impronta disneyana, perché Tezuko l'ha sempre detto che si è ispirato principalmente a Bambi, quindi è tutto nato con Bambi della Disney, tutto l'immaginario manga è nato così. Mazza, eh, sì, bello bello, cioè, bellissimo. Ehm... Quello, e poi vabbè, sappiamo che comunque è un battle shonen diverso dagli altri, diciamo, ecco, insieme a Walt Disney, lui si è ispirato anche a Akira Toriyama, quindi prendendo un po' spunto alle Dragon Ball e... comparto battle, diciamo, pure preso da lì. Sì, era quello che il mercato chiedeva, era quello che attirava, quindi molto semplicemente si è allineato su quello che la rivista voleva e quello che il mercato voleva, essenzialmente. però definirlo battle shonen è molto riduttivo, in realtà in generale perché non è solo mazzate, come dico sempre, ma è tanto altro, che è quello che poi, come dicevo prima, è bello perché si può andare a sviluppare. Beh, quello che attira One Piece è la macro trama, comunque non è soltanto battaglia, power up, battaglia, power up, nuovo nemico, battaglia... Diciamo che quello che piace al grande pubblico sono chiaramente gli scontri, quello che mantiene fidelizzata l'utenza da 23 anni è la macro trama però, quindi diciamo che se ti interessa la fantapolitica c'è, se ti interessano approfondimenti sulla società giapponese, no, ce li hai, qualsiasi cosa che ti possano in mente c'è, il pregio di One Piece è l'universalità che possiede, infatti non è... come dicevo non si fermano a quel livello di lettura base, ma è tanto altro, c'è molta stratificazione in generale e lo rende più facile a livello di interazione poi con il lettore. Sì, sì, infatti, cioè, One Piece ha tanti spunti riflessivi, tanti magari riferimenti che si possono pure trovare, ti seguo YouTube, quindi dici spesso soprattutto Wano e la cultura proprio orientale, riferita, tanti riferimenti inseriti nella saga di Wano, soprattutto, lì, perché Oda, logicamente, essendo giapponese, giusto? Sì, sì. Ha inserito parecchie cose della cultura giapponese, cioè, si va poi a marcare, a scavare, si trovano un sacco di riferimenti. Un'altra cosa, nel tuo saggio, qual è la parte che ti è più piaciuto scrivere? Cioè, quella che più, magari, ricordi con piacere, che dici, ah, però quella parte è quella magari a cui sono più affezionato? Il capitolo sulla mitologia. Ah. Quello mi è piaciuto un sacco. Ah, ok. Perché riferimenti della mitologia in One Piece, giusto? Bello. Quello, purtroppo, sai, non l'ho letto. Non sono riuscito a... Va bene, va bene. Prendete il libro e leggete. È un bello, complimenti di nuovo. E tornando adesso alla parte, diciamo, dolente, speriamo di no. Per quanto riguarda il live action, quante speranze hai in questo live action? Leggevo proprio nel tuo saggio che Oda anche prenderà parte allo sviluppo del live action insieme magari ai producer. Sarà lui a mettere l'ultima parola sugli effetti visivi? Sì, in generale, sì. Ma, allora, la cosa che è fondamentale non è l'intervento di Oda, secondo me, ma il budget. Perché l'autore può avere anche l'ultima parola, ma se ti danno un budget irrisorio per generare una serie di livello, chiaramente la serie avrà il livello che avrà. Mentre si parlava di, al tempo, un budget di 15 milioni di episodio, insomma, sono parecchi soldi per andare a sviluppare con una serie tipo di 10 puntate. Quindi, in generale, le aspettative, non dico di averle altissime, ma relativamente alte. Come avrei modo poi di leggere, insomma, a vedere le varie dichiarazioni, c'è un po' quest'idea a Hollywood di generare un mercato di cinemanga. Quindi passare dal cinecomic al cinemanga. Perché il cinecomic può attirare fino a un certo punto, può iniziare a stufare, i comics in generale, a livello di mercato, negli Stati Uniti, sono in netto calo, mentre i manga stanno vendendo veramente tanto. Quindi, attirare quella fetta di utenza al cinema è un buon modo, chiaramente secondo quelli che sono i vertici di Hollywood, di rimpolpare le proprie casse, perché alla fin fine c'è un business, quindi pensano al proprio portafoglio, naturalmente. Ah, sì. Quello serve. Puntare a One Piece vuol dire puntare al manga che più di tutti ha venduto nella storia di manga. Quindi ci puntano tanto. Diciamo la speranza è alta, poi Netflix in questo momento sta proprio in un boom, che era secondo me l'unica casa che poteva investire in un manga così di alto livello. Io sì, le speranze anche per me sono, sono positivo. Sono abbastanza alte perché a Wonderland e devo dire che si è visto già la differenza magari dal film di Death Note o semplicemente guarda il film di Alita. Quindi già la serie tv di Alice in Borderland mi è piaciuta parecchio e secondo me rispecchia parecchio. Tanta roba, hanno fatto veramente un grande lavoro con Alice in Borderland e spero che se continuino su questa linea si potrebbe fare un grande lavoro con One Piece. Alice in Borderland riesce a mantenersi tranquillamente nella narrativa giapponese, eppure è una serie molto americana. È prodotta in Giappone, da giapponesi, ma rimane comunque un prodotto ibrido veramente interessante. Quindi sì, stanno sperimentando tanto, si vede. Prima di portare One Piece hanno deciso di portare comunque molte altre opere, volutamente, su Netflix, per alzare l'asticella pian pianino. Anche per vedere poi chiaramente l'interesse del pubblico. Però insomma, in generale le aspettative io ce le ho. Poi vedremo, giudicheremo il prodotto. L'ultima parola sta sempre poi alla serie, al prodotto che ci mostrano. Chiaro, chiaro. Speriamo vivamente che... Non so se era una... Unter Hunter, la prossima elaborazione? Sbaglio? Sì, ci sono tre, quattro. Non so di quali ci aprono, perché col Covid... Eh, stanno un po' a ritardo, sì, sì. Infatti, speriamo vivamente che non sia un nuovo Bleach e un nuovo Death Note con Will and Defoe. Beh, il budget è diversissimo, quindi già quello... Eh, no, infatti già su quello è una nota positiva. Vediamo quello che succederà. Quindi, per quanto riguarda serie TV, insomma, abbiamo un... Una, come si dice... Un passo in più. Dai, speriamo bene su questo budget alto. Ehm, tornando al manga, sappiamo che... Comunque Oda sta... Sembra tirando per le lunghe, perché l'idea iniziale era farla durare cinque anni, la serie. Però, avendo visto comunque... Ehm... Grande successo, ha voluto... Diciamo... Tirare, allungare il brodo? Non lo so, che pensi? Cioè, siamo arrivati ai vent'anni, ha fatto bene, sta allungando troppo, come la vedi? Ma adesso sta accelerando, in realtà. Quindi, eh, siamo in fase... In fase calante, nel senso sta tirando la cinghia per chiudere il più in fretta possibile. Ehm... L'ha allungato in determinati momenti, ma secondo me no. Cioè, la storia quella era, nel senso... Non è che ha allungato inserendo cose inutili. Comunque, ha sempre ampliato la macro trama. E portando di pari passo alla narrazione. Narrazione che, come era fatta a livello concettuale, gli consentiva di allungarla tranquillamente. Perché se tu puoi inserire isole X all'infinito, c'è un problema di logica per cui poi soffri leggendo, no? Quindi, in realtà, semplicemente il mondo che l'ha creato lo permetteva e lo ha saputo gestire bene. I numeri delle venite poi lo confermano, quindi non posso dire che l'abbia allungato inutilmente. Non c'era la macro trama che c'era adesso, prima. Chiaramente. Dovendolo chiudere in cinque anni. Eh, sì, infatti, magari c'era già un'idea precisa, però poi ha ampliato, ecco, no, allungato, ha ampliato diversi discorsi. Inserito magari, per esempio, là, c'è sempre il solito dibattito nelle fanpage su Lucky, che magari all'inizio non aveva in testa e è stato aggiunto dopo, perché magari non è stato subito inserito. È una questione, un dibattito che si apre, pure tra amici, no? Però Lucky era una cosa che non ha aggiunto dopo per compensare, magari, altri fan we rap, che non aveva calcolato. Sempre un po' un discorso. Come la pensi te? Che è un'introduzione in corso d'opera. Cioè, nel senso di più o meno sappiamo bene cosa è stato aggiunto in corso d'opera, perché Odell ha sempre detto. Cioè, per esempio, la flotta di sette non esisteva. L'ha aggiunta a Arlon Park. Ah, ok. No, Arlon Park, Albarati, scusa. Albarati ha ideato la flotta di sette, che poi ha costruito man mano. A Arlon Park l'ha espansa con l'introduzione concettuale di Jimbe, per esempio. Ma nel suo progetto iniziale non c'era. Ma così come, questa è un'opinione personale, non c'era tutta la questione dei Ponegriff inizialmente, per esempio. Cioè, lui ha sempre detto che doveva essere una gara con i cinque anni, con i progetti cinque anni, una corsa tra pirati che dovevano conquistare il trono del re dei pirati, c'erano imperatori, confermato. Tutto il resto che c'era, però, non ci doveva essere. E avrebbe anche senso per quelle che sono, sì, sempre da dichiarazioni sue, le introduzioni in corso d'opera, ripeto. Perché Nicromi non esisteva nel progetto iniziale, per esempio. È stata aggiunta in corso d'opera. Ah, ok. Eh sì. Diciamo, One Piece ha veramente una grande varietà di personaggi. Cioè, c'è tanto, tanto, veramente, tanta carne al fuoco. Cioè, ogni volta aggiunge, non sai più, anche tante volte mi dimentico di determinati personaggi, capito? Parlando, come ti ricordi quello che ha fatto, allora fai un po' di indietro nel tempo e dici, ah, ok, sì. Tra tutti questi personaggi, qual è quello che a te, diciamo, ha dato più emozioni, a cui sei più affezionato? O sei stato affezionato? Cioè, se si parla dal punto di vista di emozioni che mi ha trasmesso, probabilmente è signor Pink. Signor Pink? Eh, sì. Sì, sì, infatti, guarda pure che pensavo a signor Pink, veramente. Cioè, è stato comunque uno dei personaggi più emotivi. Invece, quello in cui ti puoi riflettere, ti puoi indovinare. Cioè, in cui ti vedi? Vai. Lo? No. No, ah, no, perché magari... Ma no, un nichilista distruttivo, lo ho, cioè... No, no. Ma niente, non ho indovinato, non ho indovinato. No, io non... Cioè, non mi ci rivedo precisamente in un personaggio, sarò sincero. Ah, ok. Semplicemente mi piace ideologicamente Mikok, ma non perché io mi pieda come lui. Semplicemente mi piace come è strutturato. Ah, Mikok. Ah, ok, ok, ho capito. Vabbè, io, vabbè, tralasciando la ciurma principale, posso dire che tra tutti, secondo me, sono più affezionato a... affezionato, insomma, uno dei personaggi che mi piace di più. Oddio, buco. E il... aiuto. Non Ace, ma... c'è un buco. Sabo? Sabo, e niente, mi è un buco nero, vabbè. Eh, sì, sabo. Da quando l'hanno inserito è quello che mi ha più attratto, ma pure prima che mangiasse il frutto del fuoco, eh. Cioè, mi ha sempre un po' incuriosito e... Poi, vabbè, magari facendo mangiare il frutto del fuoco è diventato veramente overpower. È diventato, secondo me, sfortissimo. È quello che secondo... cioè, che mi piace di più, che mi ha dato più... A cui, ecco, mi ci rivedo. Non lo so. Detto questo, i personaggi... Il finale di One Piece, secondo te, come... Cosa ci potrà riservare? Cioè, troppe domande o... Scontato, accontenterà tutti, scontenterà tutti? Non esiste un finale che accontenta tutti. Cioè, più solo per definizione. Per cui io là volevo arrivare. Cioè, perché comunque... Non tutti, purtroppo... Cioè, qualsiasi cosa, eh, guardate le serie TV, pure magari quelle più acclamate, non tutti sono stati accontentati. Cioè, tante... Cioè, sono pure tante speculazioni da fare, veramente. Ovviamente, il discorso diventa amplio. Già, già. Infatti, non... Non lo so, se magari qualche idea possiamo speculare. Non lo so. Tendo a evitare di farlo, in generale. Ah, ok, ma non ti fai troppe aspettative. Non ti vai... No, di che altro, perché tanto, nel senso, non abbiamo gli elementi per poterli immaginare. Cioè, per dichiarazione stessa dell'autore proprio. Quindi, qualsiasi cosa che posso immaginare... Cioè, io, per fare un'ipotesi, devo basarmi su elementi dell'opera. Se l'autore mi dice che nell'opera attualmente non c'è nulla per capirlo, significa che questi elementi non me li ha ancora dati. Quindi, di base, non mi pongo neanche il problema. di base... Ah, certo, sì, infatti, neanche... Sì, vabbè. Uno magari era per buttare delle ipotesi, però... Insomma, c'è tanto da ipotizzare e c'è tanto, comunque, da non ipotizzare, perché fondamentalmente non c'è proprio... No, è che qualsiasi cosa che uno possa pensare è valida. Quindi, allo stesso tempo, qualsiasi cosa che uno può pensare non è valido. No, infatti, infatti. Beh, comunque... One Piece, cioè, secondo me, ha raggiunto in alcune parti livelli veramente epici, in altre parti magari è un po' calato come scrittura Oda. Secondo te quale delle due... Il punto più alto e il punto più basso? O magari dove Oda magari ha toppato e poteva cambiare in meglio? Sempre secondo te se ci sono delle parti che proprio... Ah, il punto più alto di scrittura? Potrei dirti, cioè, a livello proprio di come si è approcciato alla scrittura, alla basta. Ah. Il punto più basso di scrittura attualmente, secondo me, è Uonokuni. Ah. Ah, pensi sia il punto più basso Uonokuni? A livello tecnico, sì. Ah, ok. Tu parli di disegno oppure... No, no, cioè, in generale. Cioè, il comparto tecnico in generale, dall'approccio alla scrittura al comparto visivo. c'è molti problemi Uonokuni. Sono proprio palpabili. Cioè, quanti personaggi ti ricordi di inizio arco narrativo? Ti introdotti più di 200. C'è ragione. Beh, riflettendo, magari tornando all'inizio della saga, sì, vero. Perché, cioè, da quando inizi diventa proprio un susseguirsi dei personaggi che tendi proprio a dimenticare perché non compaiono, non... Che non servono a niente a livello di trama, poi. Quindi sono solo buttati lì per farti confusione, che è un po' una gestione ballerina, ecco. È vero, sì, gestione ballerina, è tutto bene. Eh, infatti, beh, forse Uonokuni, sì, la vedo più come una saga un po'... Speriamo che non tende troppo ad allargarsi. Vabbè, sta andando verso la conclusione, eh. E questo penso che a questo punto sia la battaglia finale là sul tetto. Vediamo come si svolge, come terminerà. Non lo so, tanto sappiamo che questo è l'arco narrativo di Ezzoro e, cioè, dopo l'ultimo capitolo, non facciamo spoiler. Non so se sono tutti in pari, quindi evitiamo magari gli spoiler. Vabbè, questo, diciamo che dopo questo capitolo, Sanji è un pelino sotto, so che ti piace moltissimo Sanji, che... No? E in che senso che c'hai come personaggio? In che senso, sì, tra... Perché nell'ultimo video i Sanjisti, come hai detto, magari era un po'... Voglio salvare una polemica. Ah, quella era una polemica. Ah, quella era una provocazione, non neanche per la community, che semplicemente era per scherzare con Domenico Delli, Delli Mello. Ah, ok, ok, ok. Non sapevo questo, diciamo, che stavo a stragiare tutto il gioco. Vabbè, era una battuta mia, non volevo... Che era il casino. Eh, sì, insomma. Ed eccoci questo. Un altro... Saltiamo un attimo One Piece. Voglio chiederti cosa mi pensi di Attack on Titan, sempre che magari non tutti hanno seguito, sono in pari, senza fare spoiler, che ne pensi? Visto che adesso stiamo... In generale o del finale? In generale del finale. Ok. Allora, in generale è un ottimo prodotto. Ha mutato radicalmente il concetto di Battle Shonen. Ha scardinato gli equilibri che c'erano a livello di editoria giapponese, perché era il prodotto su cui nessuno voleva puntare, perché è stato rifiutato molte volte da varie case editrici. E alla fine Kodansha ha avuto il coraggio, diciamo, in realtà, coraggio fino a una certa perché comunque glielo permetteva lo stesso mercato editoriale, perché quando un prodotto non va, lo tronchi, punto. Cioè non ti fai problemi in Giappone di portarlo avanti anni e anni, avendo sistema delle riviste. Sì, perché... Non è come da noi che devi pubblicare il volume e se va male hai pubblicato tot tiratore il volume. Quando hai un settimanale è una rivista, appunto. Se va male, va male. Ma ci sono tutte le altre che ammortizzano, no? Kodansha comunque ha voluto puntare su questo... su questo giovanissimo Isayama e ha funzionato. Ha funzionato perché ha venduto e nessuno ne capiva il perché. Molto semplicemente poi i competitor hanno deciso che effettivamente all'utenza e lettori quindi piaceva approcciarsi ai dark fantasy e ha cercato quindi di portare i dark fantasy. Questo susseguirsi di causa-effetto che è molto anche a tema con l'opera ha di fatto mutato poi le produzioni settimanali o comunque mensili in generale perché alla fin fine grazie a Takon Titan adesso abbiamo molti più dark fantasy prodotti in Giappone. Diciamo è stato l'opera lancio che ha cambiato proprio lo stile di fare il produzioni. Eh sì infatti cioè secondo me è un gran prodotto è fatto benissimo io l'ho conosciuto innanzitutto ho visto devo dire la verità preferisco il manga all'anime cioè ho visto la prima puntata all'anime ho detto no devo leggere il manga cioè ho visto la prima puntata ho detto ok vedo il manga perché poi durante l'anime c'è le schede tecniche le cose dicono mi piace più leggerlo e ho comprato ho fatto tutti i volumi quindi mi ha colpito subito da diciamo dal primo approccio solo con l'anime e poi col manga mi sono proprio innamorato cioè una bellissima serie e vediamo invece nel finale che ne pensi come è stata conclusa? Io lo trovo estremamente coerente con quello che si era visto prima mi è difficile direlo in modi diversi perché andrei a far spoiler però per come ha costruito la storia per gli archetipi narrativi che ha utilizzato è perfettamente coerente quindi io l'ho apprezzato senza proprio aggiungere altro sì vabbè l'importante è che magari è rimasto coerente con sì 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 concordo infatti veramente non aggiungiamo altro sennò potrebbe uscire spoiler perché è impossibile parlare in finale del manga senza magari aggiungere qualcosina che riguardi qualche particolare però insomma ci siamo dai e parliamo un po' cioè volevo chiedere tu come hai iniziato live su twitch diciamo a fare quello che fai so che comunque tu hai un canale youtube da cinque anni mi correi cinque anni e mezzo cinque anni e mezzo sì oltre a questo noi sono vecchio sulla tante character design ti occupi proprio di creare no? sbaglio allora nei live di character design analizziamo i character design delle opere non creiamo nulla noi di nostro ok sì cioè l'analisi dei ok esatto in generale su twitch ci sono da maggio dell'anno scorso le live le faccio da due anni in realtà prima le facevo su youtube sono passato a twitch molto semplicemente perché youtube mi ha bloccato la possibilità di fare live perché aveva preso una mia live in cui stavo facendo un'intervista come una live soggetta a copyright perché a causa di alcuni problemi con le aziende coreane che hanno un sistema di riconoscimento del viso particolare avevano interpretato la live quindi la mia faccia e la faccia dell'ospite come una pubblicità coreana mi hanno buttato giù la live e mi hanno buttato giù la possibilità di fare le live risolto in una settimana il problema è che io quella settimana dovevo comunque fare live anche perché intervistavo due giorni dopo Gianluca Iacono il doppiatore storico di Vegeta e quindi ho detto ok devo intervistare Iacono tra le varie e che faccio senza le live e passiamo a Twitch quindi ho aperto Twitch e sono su Twitch da allora essenzialmente quindi hai iniziato con Twitch con Iacono che è il doppiatore di Vegeta cioè la prima intervista su Twitch è stata questa esatto ma la cosa incredibile è che il sistema facciale coreano ti ha bloccato su YouTube ma pensate ha riconosciuto una pubblicità e non è incredibile questa cosa veramente non pensavo potesse accadere neanch'io finché non mi è successo anche perché chiaramente ci ho detto quando mi è arrivata la notifica di infrazioni copiai ho detto boh aspetta vediamo il contenuto magari il dubbio che metti una clip che ne so su un video invece era una live ho detto cavolo su una live e poi ho visto la live era una intervista in cui c'era la mia faccia la faccia all'ospite per un'ora e mezza e basta ed era un'azienda coreana e quindi poi con il network abbiamo parlato con YouTube il problema era quello cioè l'algoritmo aveva interpretato con i nostri volti come un contenuto coreano che era una cosa assurda però no davvero è andata così è assurdo guarda mamma mia e quindi dico ok mentre quanto riguarda su YouTube fai contenuti quindi analizzi i personaggi e diciamo le caratteristiche di ogni personaggio del manga giusto? ah in generale faccio più cose nel senso ok vai diciamo che cerco sempre di dare un'impronta divulgativa in generale quindi su Twitch facciamo analisi di comparto obesivo sceneggiatura e regia su YouTube questo sempre con ospiti del settore quindi abbiamo i character designer abbiamo i sceneggiatori abbiamo anche appunto fumettisti direttori di case editrici in generale cerco di portare persone che sappiano molto bene l'argomento che si tratta perché chiaramente non posso essere io ogni sapiente e quindi chiaramente mi avvalgo delle loro conoscenze tante volte su Twitch su YouTube invece cerco di fare due cose cioè critica e divulgazione quindi do le mie chiavi di lettura dell'opera X che sto trattando e completo poi il concetto con la parte divulgativa che è la notonistica tecnica perché chiaramente sono due cose diverse cioè io ti posso dire quest'opera è stata scritta in questo modo per queste ragioni esempio quando ho fatto la settimana scorsa la recensionata con Titan ma poi ti do la visione la mia lettura critica dell'opera che non è un fattore tecnico è quello che a me ha trasmesso quindi c'è compenso le due cose essenzialmente ho capito ho capito eh sì vedo ogni tanto analizzi praticamente quello che è nel dettaglio tecnico l'opera in generale del del mangaka mi sbaglio chi è che scrive il manga si chiama mangaka ok qualcosa mi sei visto il libro questo è il libro tuo no è interessante infatti ho seguito delle live in cui parlavate cioè la spiegazione nel dettaglio è veramente interessante di come si crea un manga e di come magari faccio l'esempio di Oda perché parliamo di One Piece e usi per dire lo stesso magari stile per disegnare i personaggi femminili aggiungendo dei piccoli particolari per cambiare ho visto un tuo video se non sbaglio che dicevi proprio questo quando era comparso l'ombra femminile in mezzo ai samurai hai detto una cosa del genere che sappiamo che era una donna poi per il momento ancora non non diceva niente non si sa niente però hai specificato questa cosa qui il profilo giusto? sì 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 più che altro perché sono tutti uguali quindi il personaggio è femminile sai che è femminile sì perché poi leggevo che comunque Oda faceva difficoltà a disegnare i personaggi femminili dall'inizio ma ce l'ha anche adesso per questo è un po' più quali eh infatti per quello dice lui si era esercitato parecchio però poi comunque alla fine gli fa quello stampino praticamente sì trovata la fisicità che gli viene bene e tutte quelle sempre no infatti no perché le dichiarazioni sono interessanti la parte iniziale proprio di come lui ha iniziato cioè giovanissimo che già stava tra i primi tre veramente veramente interessante ma quello è normale in realtà cioè tutti i fumettisti in Giappone tendono a iniziare molto giovani ah ok è proprio è proprio una norma cioè per esempio Isayama ha cominciato a 23 anni e ok ne va a 23 quindi era tra virgolette più anziano di Oda ma perché l'avranno rifiutato tutti gli anni prima cioè non perché ma è comunque tentato di farlo da giovane l'avevo provato subito sì ma ti diplomi e vai è proprio lo standard ah vedi ah ok vedi mazza in Giappone comunque c'è proprio giovanissimi lo stile loro poi c'è come stavi spiegando le riviste che ti pubblicano il manga e quello per cui hai lavori è un bel mondo è veramente un bel mondo poi vabbè tanti manga da cui ha preso ispirazione Oda tra quelli Ken oltre a già citati diciamo che Ken è più trasversale cioè ci sono dei rimandi ma non che l'opera si basi su Keni Guerriero no ok sì sì proprio molto lontanamente diciamo si può calzificare comunque come un battle shonen classico quello giusto sì diciamo che per certi versi ha avviato il film cioè per quella che è la mia mia visione personale perché il primo battle shonen ufficialmente dovrebbe essere Dragon Ball però io sono dell'idea per ripeto opinione personale e studi me personali che senza Keni Guerriero molte dinamiche non ci sarebbero state anche in Dragon Ball perché in realtà il viaggio dell'eroe ambientando il mondo in occidente è un prodotto di Bronson e Ara quindi chiaro che due anni dopo se ti arriva Dragon Ball che è ambientato in un posto esotico per i giapponesi un po' essendo la stessa rivista dipende anche da quello però insomma sono squisquiglie queste ah ok però sì insomma diciamo è preso da là ok è una bella teoria comunque piace come il tuo pensiero è l'appoggio che secondo me anche qualcosina è rimandato là e niente possiamo magari ti posso chiedere qualcosa di Naruto che ne pensi del finale soprattutto tanto agognato e scoperto possiamo parlarne penso che Naruto l'hanno visto tutti nel finale è passato quasi in anno eh dipende poi se hanno visto il finale del mango dell'anime perché sono pure diversi perché nell'anime nell'anime non diventa Okage dell'anime non diventa Okage il finale di Naruto Shippuden non diventa Okage io ho letto il manga non ho visto l'anime ancora non diventa Okage perché no diventa Okage in praticamente dopo in un'ova eh che hanno realizzato e tu cioè Shippuden ufficialmente si conclude che lui non è Okage questa cosa è per me avverrante a livello cioè concettuale perché cioè mi hai dato una notizia clamorosa credimi io sono rimasto lui diventa Okage in un'ova poi hanno fatto un po' di hanno fatto un film in cui vabbè era Okage e poi la serie è brutto ma a livello di anime cioè Shippuden chiude che lui non è Okage mentre il manga c'è l'ultimo capitolo che lui è Okage c'è il capitolo 700 del manga c'è lui c'è il questo salto temporale classico no? sì sì il manga con lui insomma con il braccio fasciato e fanno di tutti quanti giusto quello? quello con i figli con i figli giusto? sì eh quello là sicuro me lo ricordo bene cioè no il manga l'ho letto soltanto che mi hai scosso mi hai scosso nel finale di l'anime certo se fanno poi diciamo un sequel un nuovo un nuovo anime che diventa Okage però boh perché togliere questo vabbè eh perché tanto sapevano già che avrebbero continuato ah penso te eh vabbè ho capito però cioè chiudi il manga come cioè chiudi l'anime come chiudi il manga poi dopo magari fai un'altra cosa no vabbè ci dobbiamo eh considera che ci sono 200 episodi filler nell'anime vabbè poi i filler infatti nell'anime sappiamo che sono un po' messi boh vabbè non lo so sono un po' contro i filler non so come la pensi te beh dipende cioè nel senso sarebbe da giudicare caso per caso cioè alcuni sono interessanti altri meno 200 episodi di filler solo su Shippuden ne sono tanti sì mi ricordo qualcuno infatti poi io l'ho concluso col manga perché l'ho iniziato con l'anime poi ho recuperato tutto il manga e l'ho concluso col manga quindi poi non ho più seguito l'anime fino a quando l'ho visti alcuni si potevano pure risparmiare cioè nel senso potevano evitare anche di fare alcuni filler perché veramente tanto cioè mandi avanti e fai vabbè ok ho visto il filler no mazza ok questa cosa è un po' passiamo ad altro e guarda parlando con un amico oggi lui mi diceva un grandissimo appassionato che Slam Dunk si può paragonare a Naruto i personaggi che c'è magari Naruto Sasuke c'è sempre questa questo confronto amici nemici e poi c'è diciamo la ragazza che Naruto piace Sakura ma Sakura piace Sasuke e dice anche a Slam Dunk c'è questo paragone come lo pensi cioè si può paragonare sono degli arcei nel senso è completamente diverso no ma nel senso c'è solo in queste due opere c'è in tantissimi prodotti semplicemente penso che tutti gli scolastici abbiano una dinamica sentimentale analoga per esempio perché di per sé la Slam Dunk è uno scolastico che poi sfocia nello spocon ma rimane comunque con quel tipo di archetipo dello scolastico Naruto c'ha molto semplicemente in questo concetto di tre personaggi protagonisti che essendo a livello archetipico quello più esuberante quello un pelino più introverso oscuro nell'animo è un po' più affine ai gusti femminili quindi delle elettrici femminili quindi poi la ragazza del trio va a seguire quello lì però nel senso è un classico di tutte le storie cioè Twilight pensa pensa a qualsiasi opera che ha due maschi e una ragazza su tutto così sì infatti ragionandoci adesso sì comunque più o meno diciamo la base è quella domanda a freddo il tuo battle shonen preferito tranne One Piece che non è il mio battle shonen preferito Fullmetal Alchemist ah Fullmetal Alchemist ok è un po' datato però bello mazza giusto? sbaglio bello no bello però di così bello sì e io Hunter Hunter Battle Shonen è piaciuto tantissimo anche se ogni volta Hunter Hunter è un po' lungo come come trama come sviluppo è è una tesora un po' complicata è un pochetto sì un po' un po' e niente non so se leggi qualche commento qualche domanda di chi ci sta seguendo no non ne so non ci sono ah io dove sono non le vedo quindi non saprei dirti ok no infatti stavo controllando ok no non non mi sembra che ci sono magari me le perdo ogni tanto non lo so io non ho nient'altro da chiederti è solo una curiosità ma non c'entra niente col manga col One Piece ok dietro di te ma lo scudo di Capitan America eh sì 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 veramente sempre guarda vedendo i video se lo devo controllare sì evidentemente sì si vede c'è qualcuno che ti fissa ah ok è lo scudo di Capitan America è un regalo di compleanno sì sì ah ok no sempre guardato sai la postazione con i video che fai le live dico quello è lo scudo perché se vede a metà quello è lo scudo di Capitan America sì perché è appoggiato sul finestrino sotto però la cam questo prende quindi ah ok vabbè sì giustamente è un po' no bello sei appassionato Marvel segui sia Marvel che ti sei in realtà molto banalmente Capitan America è il mio personaggio preferito della Marvel quindi mi hanno regalato lo scudo ah ok ok sì 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 ah vabbè spettacolo spettacolo molto bellino questo magari si può parlare in altre sedi perché io domani farò la live della Marvel domani domani ci sarà una bella puntata tra l'altro quindi domani tanta roba credo perché poi come al solito ci ingannano se sei in pari pure con Vandalice ho visto dichiarazioni domani grande personaggio sarà un grande personaggio sì vabbè quella personaggio cioè ormai ho imparato come alla vision che le dichiarazioni non valgono niente cioè semplicemente sono curioso di sapere cosa succederà dopo quello che è successo la settimana scorsa però insomma tanto è quello è quello infatti veramente la curiosità sarà la mia pure comunque noi facciamo sempre il venerdì Marvel sempre su questo canale chi ci sta seguendo che magari è appassionato e vuole seguire domani alle 16 e 30 farò la live per commentare insieme la quinta puntata di Capitano America si Falcon e Winter Soldier credo tanta carne al fuoco dopo gli eventi della scorsa puntata veramente ma infatti dopo quello che è successo non sono andato a recuperare lo scudo perché non accettavo che fosse andata come è andata bravo bravo concordo concordo vediamo quello che succederà non lo so guarda ci sarà tanto da parlarne se vuoi guarda un giorno potremmo fare un'altra live parlando solo di di tutto il comparto Marvel e di quello che creano in questo periodo che ci sta veramente tante cose da da discute veramente guarda perché tanto soprattutto alla fine di questa serie sarà non lo so credo che ci rimarremo di Stuck sono sicuro non lo so non voglio probabil vediamo quello che succederà insomma non lo so vuoi aggiungere qualcos'altro tu Dennis vuoi dirci qualcosa qualche curiosità qualche aneddoto che magari hai letto informando di suota su One Piece e su vari manga magari che ti ha colpito di più in particolare così ho bruciapelo cioè di solito annulli qualsiasi pensiero quindi non saprei cosa dirti in questo momento si ho bruciato così no più che altro perché nella mia testa ho un sacco di informazioni su più opere però se se non mi cioè come quando stai cercando un libro no? semplice per te che cerchi un libro se non poi non hai il codicino preciso non sai cosa vuoi sai la scheda di informazioni che si englomerano esatto quindi se hai qualche domanda precisa specifica sono qua allora provo e vediamo provo a rimanere su One Piece una curiosità suota che ti ha colpito in particolare il perché non si mostra in volto ah per esempio eh l'avevo letto infatti è vero l'avevo letto è molto interessante perché appunto lui aveva cominciato con il discorso del non mi mostrerò finché non sarà diventato un grande mangaka che è un po' come poi il concetto di Rufi che non riderà il cappello a Shanks finché non diventerà un grande pirata no? quindi questa cosa mi ha sempre fatto un sacco un sacco di idee anche perché c'è gli manca poco per arrivare alle vendite di Superman e poi è in assoluto il fumetto che più ha venduto nel mondo mamma mia ha già superato anche Batman ha raggiunto livelli incredibili sì ha raggiunto il secondo fumetto più venduto nella storia fumetto non manga in assoluto e quindi fa ridere che ancora non siamo rinvolti nel discorso del quando diventerà un grande mangaka chiaramente semplicemente è una questione di privacy no? cioè a certa ha metabolizzato il voglio restare sereno tranquillo nel mio è buona però mi ha fatto molto ridere quel primo impatto e in generale il fatto che a quell'intervista famosa che era ancora un pischelletto aveva 17 anni si sia fatto appunto lui in versione Kabuki ciao Alex ciao Alex buonasera se hai qualche domanda siamo qui siamo ancora qui questa cosa di Yoda che non si mostra in volto è interessante è particolare siamo non so si mostrerà molto quando finirà finirà il manga no non credo no neanche ormai ok mentre visto che Fullmetal Alchemist è il tuo battle show preferito magari ti sei informato qualche particolare allora non ho ancora approfondito l'autrice a fondo nel senso non so nulla della sua vita se non che appunto è un'autrice molto banalmente mi affascina però il fatto che meglio nel senso proprio perché autrice donna essere arrivata alla vetta aver pubblicato l'ha spronata a essere a cercare di rasantare la perfezione in quello che stava facendo perché il Giappone è un mondo lavorativamente parlando molto chiuso molto maschilista quindi se tu come donna vuoi arrivare a avere i risultati di un maschio devi lavorare molto più duramente e in generale la qualità di Fullmetal Alchemist deriva da questa imposizione mentale dell'autrice che chiaramente deve soprire al fatto che non è un uomo e quindi le tocca tra virgolette lavorare di più meglio giustamente pensando come un uomo deve scrivere certo già interessante il fatto insieme per dire sì io non sono super informato per quanto riguarda dei manga quindi queste chic questa è una chic per me è una chic non sapevo che era una donna che avesse scritto Fullmetal Alchemist devo essere sincero se ci fai caso lo capisci quando guardi i sette peccati capitali ah ok no i suoi sette peccati capitali ah ok ok quindi sono informato Alchemist perché lussuria la donna è sì provocante ma in un modo molto femminile cioè un uomo l'avrebbe fatta come in serie l'avrebbe fatta esuberante egocentrica diciamo poco raffinata mentre in Fullmetal Alchemist essendo una donna l'autrice l'ha resa sì provocante ma molto raffinata ah ok ok andavo a recuperare perché me lo ricordo proprio vagamente l'ho letto anni fa cioè l'ho visto anni fa quindi devo adesso lo guardo con quest'occhio con queste informazioni in più apprezzi questi piccoli dettagli che bella Winry ha scritto Alex Torres riferimento eh beh sì ah Winry ah Fullmetal Alchemist ok ok e Seven Deadly Sins invece che ne pensi visto che abbiamo tirato un ballo non mi piace non ti piace ovviamente ah Zero Europio mazza cioè proprio sì quello hai detto senza pensarci no perché c'è già pensato c'è nel senso è un argomento che viene spesso trattato soprattutto sul mio canale perché a livello di comparto visivo è molto basso a livello di drama anche è uno sviluppo relativamente piatto non non da nulla di nuovo cioè non c'è una visione dell'autore è un riproporre elementi già notti già visti mille volte quindi non è neanche per dire un esercizio di stile è proprio un prendo quello che funziona nel mercato e lo ripropongo ma lo fa male comunque secondo quella che è la secondo me che sono le regole poi tecniche in realtà cioè non è neanche sì infatti è un po' basico no come trama nel senso sì a livello cioè come come scrittura è base come comparto visivo presenta proprio errori tecnici cioè che in una qualsiasi scuola ti sconsigliano di fare lui li porta come autore semplicemente poi li peccia nel senso quello che dico sempre può piacere come può non piacere queste falle tecniche non me lo fanno apprezzare quindi a me non piace quindi no non mi piace non lo seguo rispondo no secco se a uno piace va benissimo comunque cioè non è che siccome dico che ha dei problemi tecnici allora non deve piacere cioè può piacere comunque no beh Willis è una cosa soggettiva fondamentalmente quindi non deve essere una cosa no non ti piace allora non capisci niente insomma è una cosa soggettiva te piace o non ti piace deve essere per dire Giorgio ha un sacco di problemi ma lo adoro beh Giorgio bello però Giorgio dai Giorgio che ne pensi di Giorgio io sto figlio come dice sempre il mio amico Gianluca Chicconi è il bimbo brutto che impari ad amare eh veramente ti viene ti viene attaccata sì perché è un bel manga ti viene insomma ti appassiona ecco nonostante magari piccoli sì è l'esuberanza è la tamarraggine che piace mettiamola così perché la fin fine è che attira è in grano è un po' lento ma insomma c'è anche i suoi anni Giorgio comunque quindi naturalmente è figlio dei suoi tempi soprattutto parti 1 e 2 da parte 3 già in grano meglio poi ci sono gli stand c'è un calo fisiologico parte 5 e 6 parte 7 ritorna di nuovo nell'apice parte 8 per ora va bene quindi rimane siamo devo iniziare la parte 8 io siamo quindi siamo in salita sì 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 ah ok ok devo recuperarlo tu preferisci un manga disegnato che diciamo favorisci il disegno o la trama cioè perché ti spiego due settimane fa ho intervistato un ragazzo che ha disegnato ha creato il fluido un fumetto italiano non so se conosci parlando ho detto sì lui dice un disegno un manga un fumetto può essere disegnato anche male ma l'importante è che la trama è coinvolgente e ti sa prendere tu cosa preferiresti un manga disegnato un po' alla Carlona un po' così o diciamo una trama un disegno ben fatto ma una trama poco su cosa dipende sempre di cosa intendi con disegno perché cioè Attack on Titan è disegnato bene o male secondo te secondo me bene no? ok per me no ah ok perfetto a livello di legge ma tu parli tecnicamente io parlo magari da ignorante no non è una questione tecnica cioè quando tu guardi nel manga i volti di personaggi tante volte non sai chi è non è una questione di tecnica ah ok in questo senso là sì cioè nel senso se parliamo perché il punto è disegno vuol dire tutto non vuol dire niente disegno è come faccio l'anatomi di personaggi ma tanto quanto poi gestisco la regia delle tavole quindi se parliamo di regia un manga mal la regia fa parte della sceneggiatura però la vedi non è una questione che leggi no sì per quello che ti chiedevo cosa intendevi cioè se un manga è mal gestito a livello di tavole può avere una storia potenzialmente bellissima ma se tu quando leggi ti perdi perché le vignette sono mal messe non te lo godi se i personaggi sono disegnati brutti chi se ne frega cioè Tacco on Titan l'ho letto comunque quindi diciamo che se intendiamo disegno come costruzione visiva di personaggi delle ambientazioni il cosa rappresenti nelle vignette e scelta delle vignette gestione delle vignette e soggetto come sceneggiatura di cui la sceneggiatura è più importante però cioè di fatto dovrebbe essere un 50-50 chiaro che può avere i disegni più belli del mondo ma se non c'è la trama non c'è la trama chiaramente è quello fondamentale infatti tornando al discorso dei disegni del capire le tavole tante volte in One Piece i combattimenti perdono nel senso io devo tornare indietro per cercare di capire un po' il combattimento delle tavole ho provato questa sensazione di tavola un po' confusa durante i combattimenti sbaglio? cioè è una sensazione mia? alcune volte quella è sempre soggettiva ah ok ok tu tecnicamente come la pensi nel senso cioè dipende quali scontri parli perché alcuni sono fatti bene e alcuni sono fatti male quindi io alcune volte io alcune volte non sempre cioè ho visto questo problema ogni tanto cioè in generale mi verrebbe da chiederti perché vai avanti se non hai compreso quello di prima in generale mi verrebbe da chiederti no no infatti torno indietro nella stessa no non è che vada avanti cioè devo riguardare bene la diciamo la tavola del combattimento da finire mi devo impegnare capito invece per dire ho Attack on Titan riesco cioè scorre benissimo il combattimento è diverso eh cioè è diverso sicuramente però ho trovato questa cosa cioè non è proprio un problema delle volte no è che nel senso tra Cont Titan è statico sono scene molto statiche Isriama non è mai riuscito a mettere la dinamicità nelle tavole infatti non è bravo a gestire la regia ehm linee cinetiche eh le scene d'azione in generale non le sa disegnare e rappresentare eh Oda invece anche lui non è in grado di farlo non come Toriyama che rimane inarrivabile da qualsiasi autore finora eh Murata si avvicina ma non è immediato come Toriyama eh Oda ha deciso di utilizzare dei immaginati una macchina da presa cinematografica appiccicata al braccio o alla gamba del di quello che sta combattendo quindi fa queste distorsioni a bolla queste inquadrature molto strane eh tendenzialmente dilatate per dare più dinamicità cioè tra virgolette imbroglia nel senso che fa appunto questo sistema qui molto strano eh se riguardi che ne so lo scontro Ruffi Crick tante volte la macchina da presa finta è sulla lancia ah ok se ci fai caso cioè è molto cinematografico però è strano cioè quindi tante volte può spiazzare un pochettino sì ti ripeto perché alcune volte ti metto a fuoco non so come spiegarti ti metto a fuoco e ti aspetta ok allora sì mi fermo e vado avanti una volta che capisco bene poi l'azione riesco a inquadrarla e niente diciamo che per la nostra live è tutto su questo possiamo chiudere non cioè so certo i miei dubbi mi sono tolti le curiosità me le hai tolte tutte alcune chicche mi sono assegnato che devo andare a recuperare Fullmetal Alchemist devo andare a rivedermi perché devo guardare nel dettaglio proprio questa cosa qua detto questo ti ringrazio mil ti ringrazio moltissimo e magari ci possiamo aggiornare per una live in futuro per parlare del mondo Marvel e delle serie perché ho scoperto in te un grandissimo fan vedendo lo scudo cioè io veramente sono proprio un grande fan e non lo so poi un giorno vedremo se vorrai sarai nostro ospite e parleremo della Marvel e delle serie e dei prossimi lavori cioè ti espedire cioè se vuoi quindi detto questo ragazzi chi vorrà domani sono sempre qui live alle 16.30 per parlare di Falcon e Winter Soldier e martedì ci sarà Valerio Novara per un'intervista dietro le quinte per parlare degli Oscar e delle curiosità di alcuni film di alcuni film candidati e grazie mille grazie nuovo nuovamente a Ronin e grazie per aver invito di nuovo grazie mille e io sicuramente ciao Alex per averci seguito grazie mille ti seguirò tanto continuerò a seguirti su YouTube e tutti i tuoi video e sarò il primo a guardarli grazie ancora buona serata e ci aggiorniamo alla prossima live a giovedì prossimo grazie mille grazie a tutti grazie a tutti